Soprattutto a motivo di questo obbligato deserto, di questa obbligata solitudine, ecco che anche la nostra comunità cristiana sembra essere diventata un po' invisibile. Ecco, sappiate che soprattutto a noi sacerdoti veramente manca la vostra presenza. Stiamo sopportando tutti questo momento con fatica, ma anche nello stesso tempo lo facciamo per amore. Soprattutto ci manca la possibilità di trovarci nelle nostre chiese, nella chiesa di Leno, di Milzanello, di Porzano. Trovarci insieme a pregare, trovarci insieme a celebrare l'amore di Dio nell'Eucaristia. Proprio per questo desidero mandarvi questo semplice e piccolo messaggio che vorrei ripetere ogni settimana. Un messaggio settimanale per dirvi innanzitutto che la nostra comunità cristiana è ancora viva. che noi sacerdoti continuiamo a trovarci a pregare e a celebrare l'Eucaristia per voi. che possiamo e dobbiamo mantenere la comunione spirituale fraterna tra tutti noi. Desidero però nel frattempo è anche inviarvi una parola di consolazione e di speranza. e lo faccio prendendo lo spunto della prima lettura della terza domenica di Quaresma. Questa lettura è tolta dal libro dell'Esodo. Si racconta che il popolo, appena liberato dalla schiavitù d'Egitto, si trova nel deserto, ma nel deserto ecco che manca una cosa fondamentale, manca l'acqua e tutti rischiano di morire di sete, il popolo ma anche gli animali. Proprio per questo il popolo si rivolge a Mosè e gli dice ma il Signore è in mezzo a noi sì o no? Sotto certi aspetti questa è anche la nostra situazione. Ci troviamo in un deserto obbligato. Sono pochi segni di vita. I bar sono chiusi. Le strade sono deserte. I luoghi dell'incontro ormai non esistono più per la disponibilità al trovarci. E soprattutto ecco che ci manca la cosa fondamentale e cioè la sicurezza della salute. C'è il rischio effettivamente che questa epidemia intacchi tutti. E allora ecco che anche per noi sorge abbastanza spontanea la domanda ma il Signore è in mezzo a noi sì o no? Si prende cura di noi sì o no? Certamente la domanda non è soltanto la richiesta della soluzione del problema, del problema della sete, nel nostro caso il problema dell'epidemia, ma anche la domanda di una presenza. non si dice ci guarisci o no, ma piuttosto si dice ma tu sei in mezzo a noi sì o no? Quasi che il popolo abbia compreso è che quello che è importante è sapere che lui è presente, che lui è vicino. Quando c'è questo si può anche sopportare il male, è più facile da portarsi, perché sappiamo che non siamo da soli. La risposta a questa molteplice e potremmo dire soprattutto duplice domanda, domanda di guarigione, ma anche domanda di presenza, la dà Dio stesso e la dà attraverso il miracolo dell'acqua che scaturisce dalla roccia. Acqua abbondante, acqua per tutti, acqua che fa rinascere la possibilità di una vita. Nello stesso tempo però dobbiamo fare attenzione è che Dio dà l'acqua da bere e che fa riprendere la vita non direttamente, non con un miracolo così evidente e eclatante, ma per certi versi nasconde il miracolo attraverso la mediazione di Mosè. È Mosè che prende il bastone e con questo strumento picchia la roccia e da quella roccia esce acqua. È un po' sempre così nella Sacra Scrittura. Difficilmente Dio fa un miracolo evidente e difficilmente mostra la sua presenza evidente e eclatante per non obbligare nessuno a credere in Lui, ma piuttosto si nasconde perché tutti quelli e soltanto quelli che vogliono credere possano credere. Ora, anche nel nostro caso, certamente Dio è presente e si prende cura di noi. Ecco, Dio vuole guarirci da questa epidemia, ma non vuole farlo da solo. si serve di mediatori, si serve delle nostre amministrazioni, si serve soprattutto dei medici, degli operatori pastorali. La provvidenza di Dio si mostra attraverso queste mediazioni umane. Proprio per questo ecco che la nostra gratitudine non deve andare semplicemente a Dio, ma deve andare sia pure a Dio, ma attraverso anche il grazie agli operatori sanitari che si stanno prodigando in maniera effettivamente è encomiabile. Obedire a quello che ci dicono e obbedire anche a quello che ci dicono le nostre amministrazioni in questo momento equivale a riconoscere che Dio si serve anche di queste indicazioni per darci salvezza, per darci salvezza, per darci liberazione e speranza. Certo, una parola di speranza, di speranza cristiana, ma San Paolo nel secondo lettura dice che questa è una speranza che non delude, perché l'amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che Egli ci ha dato. Coraggio quindi e buona domenica.